D'estate i papagalli riposano ma non vanno in letargo, infatti saremo ancora insieme per 20 settimane dal 20 novembre prossimo venturo. Perché ve ne parlo così presto? Perché sarà un portobello rinnovato, pieno di novità. Vorrei segnalarvene una, una rubrica dal titolo domestico, casa mia, casa tua. Di che si tratta? Facciamo un caso, non so, una famiglia che abita da sempre a Venezia e da sempre sogna di vedere magari l'Etna, la Sicilia. Come fa? Viene a Portobello, si prenota e cerca appunto nella nostra trasmissione una gentile famiglia siciliana che opererà uno scambio, soprattutto se questa famiglia a sua volta non avrà mai visto Venezia. Ecco, un lungo periodo di soggiorno aiutandosi tra italiani. Io penso che dato il prezzo delle vacanze e degli alberghi sia casa mia, casa tua una proposta abbastanza interessante. Quindi scrivete e per casa mia, casa tua e per tutte le altre rubriche. Avremo ancora delle novità, ve ne parlerò al momento opportuno. L'indirizzo è sempre quello. Portobello, Rai, Corso Sempione 27, Milano. Grazie.